Grazie a tutti Io sono un biologo e quindi lo so che la roba non è capitata così Ho tanti anni di esperienza in tanti campi che metto a disposizione Infatti vi invito oggi a fare una bella spremuta della mia testa In modo che posso creare un ponte fra dove siete in questo momento E fra dove volete andare ognuno in modo suo E quindi questo richiede che io abbraccio certi valori universali Devo dire qualcosa da bello da Giorgio Non soltanto per il microfono qui Perché sarà lui da fare il montaggio dopo E se non va bene mi taglia tutte le cose Giorgio mi ha dato una grandissima felicità Quando ci siamo incontrati tramite dei social network Questa è una cosa che compensa per la mancata democrazia e dignità umana In sempre più posti Voglio approfittare del nostro incontro oggi Di affrontare argomenti spirituali che di solito non ho l'opportunità di affrontare Anche perché vedrete su dei social network YouTube e Facebook e il sito Ogni cosa da qui faremo oggi La risposta a tutte le vostre domande Quindi oggi voglio che abbiamo l'opportunità di fare una cosa un po' diverso Così quando mettiamo questo in quelle stesse strade di comunicazione Possiamo toccare altri argomenti L'incidenza e circostanza che mi hanno portato qui a Catania 34 anni fa Per me non sono delle circostanze E una delle cose più importanti che vorrei fare per voi E rendervi molto più abili a seguire quello che sta dicendo il vostro animal Che non è un messaggio che posso dare Purtroppo semplicemente perché la gente ha le orecchie tappate Quindi questo è come mai che sono qui E quindi torniamo alla prossima considerazione Ah, vorrei farvi vedere, sentire ognuno di voi Un pezzetto della chiropratica Così vi posso far sedere qui una volta Chiunque che vola, chiunque che troppo E forse non c'è bisogno di si fa E vi invito solo da tornare gli occhiali e gli orecchini Quelli grandi In un modo che qui vi possa aggiustare E vi dico cosa succederà Vi chiederò a ognuno di stare seduto E girare la testa a destra o sinistra Prima che dopo Perché abbiamo visto 30 anni minimo Da film di azione dove Detto in dialetto si scippano la testa Tutte morte E questo è fatto apposto per far sì che nessuno si penserebbe mai a farsi toccare l'oculone vertebrale Un esperto con due lauree e una specializzazione di 34 anni nel campo Infatti vedrete la vostra espressione che quando giusto una persona dopo un'altra Le vostre espressioni sono un po' come i ragazzini alla terza aumentare E dicono no, cosa stanno facendo? No, 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 no Perché il mio lavoro che è pioniero In far vedere ciò che per voi non è stato mai spiegato Mai dimostrato Mai risposto E questo è più o meno il tema della vita spirituale in confronto a quello mondiale Gestita pesantissimamente della propaganda Finché ogni cosa che è normale è satellita Non visto mai Anche a negare avanti dell'evidenza E' proprio un nuotare controcorrente Che penso che ognuno in questa stanza è già abituato a fare Quindi è già molto più facile per me Quindi a questo punto non so come Giorgio e la sua equipa dei tecnici vogliono gestire le cose Ma io vi dico quello che voglio che faremo Una alla volta ci mettete in seduta qui Guardando la telecamera e girate la testa a destra e a sinistra Vi aggiusterò il vostro collo con grande delicatezza e precisione Normale sarebbe niente rumore Ma noi troveremo che quasi tutti voi fate un bel casino con un rumore E niente dolori Niente dolori Niente dolori E chi fa più rumori avrà attraversato da maggiore distanza Tra le posizioni errate in cui siete arrivati qui Frutto delle vostre abitudini e misinformazioni E invece la distanza fisiologica Normale dove guarda caso l'anima passa dal sistema nervoso centrale E dirige la baracca sotto la mano di Dio dentro il corpo Un messaggio abbastanza importante E sempre Oh non posso dire tutte le parole ma altro microfono Ma con la vostra permessa vi lo dico come si dice in catenese? Io solo si devo offendere Vi dico solo le parole che arrivo Va bene Questo concetto E chi lo dice Non viene in catenese Ok? Ho un'espressione che prendo dell'inglese Che ogni tanto non trovo che mi serve in italiano perché non la conosco E inserisco un'espressione E qui l'espressione è Tentando di spiegare una cosa a qualcuno che non è pronto O che non lo sa O che è già suscettibile o molto defensivo Ha diventato una bisciata contro il vento Non soltanto che non ascoltano E non apprezzano E non riflettono E non indagano Ma ti trattano pure male Che hai espresso E questo Viene che ampli le informazioni controcorrente O contro il guadagno E a priori E così per tutti In tutte le parti Quindi A questo punto Vedo che ho la vostra attenzione E questo mi piace Prenderemo una testa alla volta E se si deve spostare La telecamera In modo che si vede Come si Come si Come si blocca Come bloccate il movimento Già frischi frischi così E quanto velocemente Io con la chiropratica Vi posso mettere Momentariamente Al centro Tanto per Per documentarlo Va bene Quindi Voi che siete più corrigiosi Per prima O una volta qui E Giorgio Devo preoccupare Di prendere la mia voce Ma lo scuscio Dele gente Va bene Tira la testa Destro e sinistro Un quadrato Sempre bene Sì Se andate un po' più indietro Sennò Dei Un quadrato Beh la sua testa Dicono No Io non sono importante No È importante che prendi lui Ok Qui c'è Ok E la sua espressione No E la sua espressione Ciro la testa Poggio la testa Tutto giù Così Proprio qua È ferma E qui Questa ossa È fuori posto Allora Ci sono Due possibilità Dopo 30 anni Da questi film d'azione Dove una persona Che subisce Una cosa Che potrebbe sembrare Così E crepano a terra Il primo pensiero È che Lui era a posto E io l'ho Scassato L'altra possibilità È che Lui è venuto qui Scassato E io l'ho Aggiustato In italiano Dite manipolari Ma manipolari E grezzo In confronto Al Aggiustare Come sapremo La differenza Provo a girare la testa Guardiamo adesso E io vi chiederò sempre Meglio o peggio O lo stesso E fra 0 e 10 Che differenza c'è? E chiedere a lui Io lo sento Che riesco a fare Un'ostensione maggiore Se non ti potresti a sinistra E fra 10 e 0 Quanto? Se era 0 prima E 10 e 100% in più Quanto hai guadagnato? Prima devo essere In giro Non ci ho fatto caso Però comunque Il 6 è sicuro Da 0 al 6 sicuramente Ok E in vita tua Di ricercatori Tutti i ricercatori Qui avete mai sentito De nominare In modo da aumentare Il passaggio Fra l'anima e il corpo A 60% In 10 seconde? Credo di non Perché se lui Sta bene Senza Dall'ospedale O ai farmaci Chiunque L'ha messo In quella posizione Quando mi troverò Con i chiodi Nei polsi Sulla croce Però In termini Sociali Più o meno Lì Bene Quindi Tu le consigli De fare questo Nealto? Certo Assolutamente Ma io L'avevo già fatto altre volte Da un osteopata Cooperazione di questo genere Ok E ho avuto Dei chiari miglioramenti Ok Il problema è che Il problema è Scusate Il problema è Che questo non deve Dipendere da me Ok Quando la gente Che ha pochissima Da quella preparazione Intellettuale Nel campo Ah sto male E me la fa stare bene Mi ha scusato Io l'ho pagato E Oh adesso sto bene Ma io non posso Compensare Per le brutte abitudini Nella sua vita Impossibile Quindi quanto tempo Dura questo? Dipende da quanto Lui affronta Le altre cose Che fa ogni giorno Che scassano tutto Ma se io vengo pagato Non io Ma se uno viene pagato Per fare questi scassamenti E posso essere abbastanza Vaghi Di dire Ma queste cose succedono Quando non ti senti bene Viene da me Mi paghi Sono disonesto Perché Quale che sposta La colonna vertebrale Non è un segreto D'estato E affronteremo Questo dopo Quindi adesso vorrei Prendere tutte le teste Va bene? Prossima testa Grazie Prendo il tuo coraggio Prendere tutte le teste E adesso E adesso Gira la testa Ok Se vuoi dire Chiederò ognuno Così non devo ripetere ogni volta Mello Inveggio è lo stesso E fra 0 e 10 Quanto è migliorato? Bene? 8 o 9 Se mi sento molto più Forte Sì 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 Lo spoglio Ciro 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 La testa La testa Adesso 10 10 Nel momento in cui Arrivò A questo punto Sentivo un dolore Sapevo di essere Blocata Giorni scorsi Non riuscivo neanche A fare questo momento Tipo un blocco Avuto Quindi adesso Proprio 10 Grazie Quindi Adesso sappiamo Che funziona Il tre Non è malvagio La facciamo tutti Ma Vi chiedo Non essere tanto Impressionate Del rumore Ma Dare attenzione A cosa c'è Che fa spostare Il passaggio Fra l'anima Al sistema nervoso Centrale Del corpo A un pubblico Ricercatore Bene Il ricercatore Dovrebbe essere Dei primissimi Detogli Questi problemi Allora Metemi Prosto Poi Nesco Che vuole Questa è Sì 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 Allora, mentre i nostri cavi sono felici, le smorfie delle facce da chi non ha mai visto una cosa di questo genere dita sua sono non indifferenti. E questo perché non basta vedere le persone felici, quello che mi ha fatto a me fa stare meglio. No, perché la diffidenza che è una defesa non è soltanto di un'isola che ha perso 3.000 anni di guerra senza iniziare uno, quindi tutta la gente sul defensivo, ma l'immagine, la visualizzazione di ciò che sta succedendo urta con i meccanismi difensivi. Vi posso dire questo in televisione o nei film, per intenderci, se vogliamo vedere un film con una macchina, prendiamo un Alfa Romeo per esempio, se non è un film prodotto in Italia possiamo stare freschi, possiamo scordarlo perché il contratto per il multinazionale per il film è stato contratto da New Jersey. Lo so perché quando ero ragazzo c'era un programma chiamato F.B.I. e era sponsorizzato dalla Ford Motor Company. E quindi non c'era bisogno di aspettare la pubblicità per vedere le loro macchine, tutta l'intera storia dell'inizio al fine era così. E quindi quando noi vogliamo capire come mai una cosa già comoda per i nostri occhi o i nostri orecchi o la nostra anima, dobbiamo chiederci chi è che sta pompando tutta l'informazione, e così chiamate l'informazione a noi e io credo come voi andiamo a controcorrente. Va bene, allora, la più smorfiosa, questa è la prossima, subito canta, poi la prossima facciamo la più smorfiosa, che mentre stavo parlando già tolto gli orecchini, quindi sappiamo che stiamo decollando, va bene? C'è la testa. Sì, la testa. Sì, la testa. La faccio giro. Ok, la faccio giro. Ok, la faccio giro. E qui. E qui, dietro. E' un altro. E' un altro. E' un altro. Insomma, lo giro meglio, però sembra un po' di tensione qui. Quindi fra 0 e 10 quando hai guadagnato. 8. Oh, 10 secondi. Sì, sì. Non è mai promettente, va bene? Sì. Ok. Qualcuno vuole dirmi, secondo voi, come mai si spostano le ossa così velocemente? A tutti? Per la postura, no? Per la postura sbagliata. No. Adesso inizieremo un lunghissimo calvario. Per la tensione muscolare. Prego. La tensione muscolare. No. Dove ogni domanda che faccio, voi non avete la più pala di idee delle risposte. Per i ricercatori spirituali, questo è un po' magro, come reso. Bene? Ed intossicazioni dovute a ciò che mangiamo. E quindi questo dopo lo inquadreremo per bene. Ma il motivo per il quale stiamo sentendo tutte queste persone a fare tutto questo rumore è perché la gente non ha la più pala di idea come mangiare. perché nel momento in cui si gira l'angolo, al limite si fa il meno peggio. Si fa un giorno sì, un giorno no, una settimana sì. Ma se la gente non ha nessuna idea, abbiamo un piccolo complotto qua. Va bene? Ok. Posso quare se? Il giro la testa di vostra semistra è lei nostra super smoglissora! Siamo così. Ciao! Sì, adesso facciamo la testa di giocare così e indietro, questa ossa è fuorosa. Questa, vengono scluscire tutte nella stanza. Ok, cosa dice? Adesso, giri la testa a destra e a sinistra, me ripeto la stessa. Meglio. La zero è dieci. Otto. Allora, allora, tempo. Per voi che siete arrivati adesso, io mi chiamo Paul, io sono qui da 34 anni, il mio lavoro è di rendere le persone autosufficienti sul punto di vista della salute, se vogliono. Abbiamo già parlato della ramificazione spirituale di essi responsabili per se stesso e di capire quali sono dei motivi per i quali perdiamo il nostro equilibrio. Quindi la dimostrazione che sto facendo adesso, siamo già a metà per tutti, si chiama un aggiustamento chiropratico che è il modo più potente e corretto e sicuro e veloce nell'intero mondo di ricollegare l'anima con il sistema nervoso centrale e il corpo e viceversa. Questo messaggio non ti lo dice nessuno dove gira il denaro. Quindi io corro costantemente la certezza, il battere la testa contro quelle che sono le credenze. Solo che adesso con aiuto tipo Giorgio e dei social network e diverse persone che mi invitano a fare presentazione da diverse parti, ho l'intenzione di tagliare la testa al toro. Quindi voi state vedendo persone che girano loro testa a destra e a sinistra per sentire come stanno. Io li aggiusto, più rumori fa, più lontano erano da cento, niente dolori e poi loro tutti stanno testimoniando. Sì, meglio, fra zero e dici, oh, quattro, cinque, otto, dici, va bene? Una cosa sconosciuta per voi e soprattutto gestita, promossa come in terapia per le ossa. Questo è oscena, volgare e poco spirituale perché questo rumore non dovrebbe essere necessario. Quindi il libro che voi avete, si parla del progetto Genesi che è proprio l'insegnamento di Dio su come gestire la tua vita così non hai bisogno di questi tipi di problemi e come non hai bisogno del 99% del sistema sanitario. E tutti gli altri che mi hanno iniziato hanno fatto le loro domande, così io ho già molto chiaro dove voglio andare e il mio testo è il vostro, ogni domande che fatti mi fa piacere, farò le migliori dimostrazioni e risposte che io conosco, va bene? Sapendo che le risposte sono già scritte e filmate. Andiamo avanti. Chiaro così? Sì. Ok. Apposso la testa, giù, 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 fermi qua. Il migliore della stanza, bravo. Apposso qui, più indietro. Sì, migliore della classe. Brava, cara. Non dovrebbe fare alcun rumore. Prostima testa. Il voto? Il voto. Fra 0 e 10? Meglio, meglio. Non saprei dire, però, 7. 7 o 8. La sufficienza, no? Sì. Ok, giù la testa. Sì. Io sono tutto un rumore con la testa. Apposso giù. E qui. Bene, niente rumore. E qui. Apposso giù. Ok, così. Quattro e 10? È un po' meno, sì. D'acqua c'è il numero. Beh, 7. Questo è un documentario. 7, da te. Thank you. Grazie. Prostima testa. E lo facciamo tutti. E se vogliamo rispermiare tempo, gli altri potete... Mi fai, mi fai. Vira, non va a finire. Ok, prossima testa. Proviamo. No, 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 no. Non va a finire. 8. 8. 8. Ok. Buon arrivati. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Il prossimoenario, Andrea. Ciao. André, grazie. Il prossimoenario. C'è qualcosa. C'è qualcosa di pieno? Sì. 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 Allà. la testa destro o sinistro? la testa destro la testa di nuovo e dirci sei meglio peggio lo stesso e quanti eri dieci? quanti eri dieci? si ok bella introduzione ottimo si sta sicuramente si sta sicuramente si sta sicuramente la testa destro o sinistro faccio tutto gioco più gioco ancora uuuu numeroso nella stanza hai fatto bene venire oggi allora io peggio lo stesso tra zero e dieci sette ok adesso io l'ho inventata la chiropratica la chiropratica è in giro dall'inizio dei tempi si vedeva nelle caverne ma a livello moderno e vi parlerò questo dopo la chiropratica esiste da o 120 anni quindi la domanda è come mai informazione di questo genere è separita sotto il vostro sistema della propaganda perché ogni volta che io dico una cosa dicendo me lo chiedo la tua informazione di dove viene ok e se avete dubbi io andrei in qualsiasi piazza in qualsiasi paese e lo farei questa la mattina e la sera gratis solo per fare la gente vedere che qualche cosa è sfuggito dai telegiornali su serio mettetemi le prove ok vieni a San Pietro Patti io ho fiume freddo perché li scusciano tutta la gente la mattina la sera va bene ok la testa me lo vuoi passare la voce qui uuuuh scusabile qui giù sono rovinato vediamo se è giusto si ma tutta la gente sta così e voi siete ricercatori e voi siete curiosi allora non vuoi neanche sapere giù la testa dice le differenze sette va bene tengo da farvi tutti se non avete paura così siamo tutti collegati all'anima quando stiamo lavorando va bene prendo mangetrisci del gelato anche tanto namaste giuro testa carino giuro 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 e tu sei di nuovo vincitrice del migliore della stanza giuro 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 mano giuro giuro Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.